Il 2008 è stato un anno per noi molto positivo, abbiamo seguito il trend degli ultimi anni, siamo cresciuti circa all'11% arrivando a fare 82 milioni di euro, anche gli utili sono in linea con gli anni precedenti, quindi siamo molto soddisfatti del 2008, nonostante gli ultimi mesi non siano stati eccezionali. Il punto di forza dei KITAN oggi è quello di sempre, il prodotto, che per noi è sempre stato al centro della nostra azienda, proprio perché la nostra azienda ha scelto sin dall'inizio di fare e di curare tutte le produzioni in prima persona, quindi tutti i prodotti che vengono commercializzati alla KITAN vengono fatti in azienda di nostra proprietà, la tecnologia non è una cosa che riesce ad entrare in quanto tutti i prodotti sono fatti manualmente, quindi se per tecnologia si intende sul prodotto, sicuramente noi siamo lontani dalla tecnologia. Il mercato italiano sicuramente tra i mercati è quello che risente di meno della crisi secondo noi, non è mai stato un mercato che sia esaltato, quindi sicuramente è un mercato sempre stato più stabile, più coerente e quindi è quello che in questo momento soffre di meno. Poi stiamo cercando di svilupparci anche sui mercati asiatici come la Cina, come la Corea, come il Giappone.